Qual è il tempo che premi per fallare tu? Cambio caricatore! Hai già due fatti Sì Ma rega, è easy, non è questo dai Vai con U Uno morto C'è qualcosa che mi ha rallentato Non è la posizione della tipa Apri qualcosa, apri Ti lancio le robe Sì Carica! Jager all'angolo A destra Dove sono morto Che puzzle Madonna No fra, non me la ruba Bottola, Bottola Bottola, Bottola Ok, ma è morto di morto Abilante Bottola, conanterla Pace A presto Mastro